Ma vieni, puoi tommasasas a letto, chica. Silenziale. Cos'è il principio è una mano, tranquillo. Non lo vieni, non lo vieni, non lo vieni. Super. Pag. Un compito che sono attuante. Ok, omm. Ok. Questa passi comunque? Io vi ho vago. Voglio andare. Questa, qua. La sua porta. Non. ha ha ah no 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 a ver se mi ergo ero io stai ero io stai ah puñetta tengo la gisota palma ahahah